Buon day e benvenuti in questo nuovo vlog Oggi, come avrete capito dal titolo, andrò a tatuarmi Però ancora non vi dirò cosa mi tatuerò, lo scoprirete dopo E ci tengo a precisare per quelli che non mi conoscono Che è la parola che mi vado a tatuare Non è una parola che uso solo su YouTube Ma la uso da anni, con i miei vecchi amici E quindi per me ha un significato E per intenderci non sto andando a tatuarmi una puffetta sul fianco Quindi voglio almeno 15.000 like per questo video Condividetelo ovunque, fate screen come sempre E bella, vi lascio al vlog E' un fattore di me E' un fattore di me E' un fattore di me Nooo Guarda Dai, ragazzi, mi sento Ho sbagliato, no, no, veramente Che cazzo dici, no, se non ti lo guardo Ragazzi, che cazzo dici No, non ci credo Non ci credo, ragazzi Non ci credo, ragazzi Non ci credo, ragazzi No, non ci credo Non c'è da buono Sei contento? Si, è un buon attacazza Stai giù Stai aprire la roba Per la macchina E poi Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate Spero che questo gesto vi faccia piacere A me piace un botto E vi lascio in descrizione Il link del mio tatuatore Il suo profilo Instagram Così se volete tatuarvi Se i miei tatuaggi vi sono piaciuti Potete contattarlo in privato E vi mettete d'accordo insomma Noi ci vediamo al prossimo video Bella Ciao 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 Grazie.